Sostenere famiglie in difficoltà, ragazzi con disagi e più in generale tutta la comunità. Coinvolge un migliaio di studenti di Gela il Passaporto del Volontariato, iniziativa promossa da un coordinamento di associazioni di solidarietà animato dal Movimento di Volontariato Italiano. L'elemento innovativo di questo progetto, il Passaporto del Volontariato, è che viene riconosciuta l'esperienza del volontariato come un'esperienza di lavoro e quindi è utile all'interno del curriculum, ma anche la scuola riconosce il valore del volontariato consegnando crediti formativi al ragazzo e inoltre attraverso l'esperienza del volontariato si acquisiscono abilità e competenze relazionali che possono essere utili in qualsiasi esperienza lavorativa. L'iniziativa in corso di svolgimento a Gela in Italia è seconda soltanto a quella analoga di Milano ed è stata importata dalla Francia, ovunque studenti entusiasti. Abbiamo fatto nuovi incontri, nuovi istituti diversi e ho visto che tutti gli alunni sono stati interessati, hanno fatto delle domande e abbiamo avuto anche moltissima adesione. Il rilascio del Passaporto è legato anche alla frequentazione degli atelier della cittadinanza attiva, laboratori permanenti di educazione ai valori di solidarietà e giustizia. Noi pensiamo che il Passaporto del Volontariato possa essere uno strumento importante in un momento di crisi come questo per ridare valore alle cose che hanno valore. Per noi ha valore il senso della comunità, che significa il senso della relazione, il senso del prendersi cura gli uni degli altri e l'economia in questo contesto diventa in qualche modo un elemento che non è primario rispetto alla relazione, ma che diventa invece uno dei modi per ristabilire un rapporto all'interno di un territorio. Grazie.